Questa categoria da un anno, da oltre un anno, ha chiesto un sacrificio enorme e purtroppo si è rivelato un sacrificio inutile, perché i nostri negozi sono chiusi e il contagio aumenta. Anche i commercianti e aretini al grido di fateci riaprire alle manifestazioni di Roma e Firenze. Siamo il mondo del commercio, dei servizi, dei pubblici esercizi, dei trasporti, del turismo, delle partite riva. Siamo un mondo grandissimo che ha bisogno di lavorare. Nella capitale è infatti in corso l'Assemblea Nazionale FipeConf Commercio, organizzato in piazza San Silvestro, a rappresentare pubblici esercizi e aretini il presidente di categoria Federico Vestri. A Firenze, contemporaneamente, in corso anche un'altra manifestazione presente, la presidente regionale Anna Lapini e il direttore Franco Marinoni. Serve fare più vaccini possibili e riaprire prima possibile i nostri negozi. Noi ci siamo dati una data limite, noi possiamo arrivare a fine mese, non oltre. L'apertura ci serve subito, ci serve da mattina, ma se noi arriviamo a fine mese e la rapertura non ci sarà, noi che abbiamo sempre rispettato le regole, credo che dovremo assistere a un fenomeno che avremo avuto evitare, che la gente, cioè, decida dopo un anno di non lavoro, di festeggiare nel modo più intelligente quest'anno la festa del lavoro, cioè lavorando. Vogliamo la data prima? Se non arriva la data ho la sensazione che il primo di maggio ce la prenderemo da assieme. Per questo io... Bravo! Bravo! Bravo!